L'oca in fuga Si preannunciava una Pasqua splendida. La nonna sarebbe venuta a pranzo da noi e già pregustavo la gioia delle sorprese contenute nelle quattro uova di cioccolato che mi erano state regalate. Fuori pioveva di rotto, ma io mi sentivo l'animo leggero e spensierato. Poi il patatrac. Suonano la porta e un nostro vicino che rimane qualche minuto sulla soglia a parlare con il papà. Sono un po' curioso e mi avvicino sperando in qualche bella sorpresa. Invece vedo il papà partire di corsa vestito com'era dopo averci gridato Me scappa loco! L'è là che il core pari campi! Bisogna che vaga a ciapparlo! E sulla sua bici unito di una rete corre alla ricerca di Cleopatra. Dovete sapere che Cleopatra, detta Cleo, è un'oca gigante giunta da noi da una settimana come regalo del cugino Michele. Mio papà infatti ha una vera passione per gli animali da cortile. Ne possediamo tantissimi cani, gatti, galline, ci mancava solo l'oca. È un'oca di Pasqua fuggitiva. Il papà ha cercato di raggiungere un punto bianco che vedeva in lontananza. Poi però, quando si è avvicinato, si è reso conto che si trattava di un gabbiano. Dov'era finita Cleopatra? Il papà si vede costretto a chiedere in giro. Finalmente qualcuno gli dice di averla vista lungo un sentiero verso via Oppioli, da tutt'altra parte rispetto a dove lui l'aveva cercata. A quel punto decide di tornare a casa per procurarsi una canna di bambù sulla quale agganciare il retino. Mia mamma era molto seccata per questo imprevisto sopraggiunto proprio il giorno di Pasqua. Io, invece, cominciavo a sentirmi nel bel mezzo di un racconto di avventura, uno di quelli che leggiamo a scuola. Con la fantasia, mio papà stava diventando il protagonista di una storia di antichi gladiatori romani o un eroe di qualche caccia grossa. A bordo della sua jeep, ops, della sua bicicletta, riparte per catturare la povera Oca in fuga. Per fortuna stavolta la raggiunge, ma lei cerca di sfuggirgli svolazzando di qua e di là. Il papà, allora, utilizza l'arma che si è appena costruito e Cleo viene imprigionata nella rete. Poco dopo, lo vediamo tornare a casa a bordo della bici, con l'Oca tenuta saldamente sotto il braccio. Noto che il papà ha un'aria piuttosto stanca e provata, ma il suo sorriso è trionfante. Finalmente l'Oca è stata catturata e per lei sta per essere predisposto un rifugio a prova di fuga. Tanto per stare più tranquilli le vengono accorciate anche le pene delle ali. Nel pomeriggio mi recco a trovare Cleopatra e la mia bellissima Oca mi fa trovare una sorpresa in tema con la giornata. Un gigantesco uovo tutto bianco. Un gigantesco uovo tutto bianco uovo tutto bianco.